Buongiorno a tutti, mi chiamo Massimo Agnoletti, sono uno psicologo, mi occupo di attività clinica e ricerca e formazione scientifica. La mia mission professionale è quella di tradurre preziosi informazioni che si trovano nell'ambito accademico, psicologico e delle scienze biomediche in comportamenti, azioni, abitudini che hanno un impatto importante sul miglioramento del benessere e la salute delle persone. Il 9 settembre avrò uno spazio dedicato alla relazione l'epigenetica delle emozioni dove parlerò di un recentissimo settore della psicologia scientifica che si chiama psicologia epigenetica che studia appunto dal punto di vista scientifico quanto le emozioni, i pensieri e le motivazioni, quindi l'aspetto emotivo, cognitivo e motivazionale impattano su quella che è l'espressione dei nostri geni, su quella che si chiama memoria epigenetica. A questo riguardo invito tutti i colleghi delle varie professioni che però convertono nel migliorare il benessere psicofisico delle persone nel trovarci, nel frequentarci diciamo il 9 settembre a Bologna perché sarà un'ottima occasione per vedere quanto la scienza dell'epigenetica ci sta indicando per migliorare il nostro aiuto, il nostro supporto nelle persone e rendere il nostro appunto supporto più efficace ed efficiente.